buonasera buonasera a tutti buonasera bentornati a questo appuntamento con le nostre lezioni di storia buonasera a professor letterio con cui siamo collegati da foggia chiaramente un saluto a tutti quelli che ci seguono agli amici se vogliamo dell'istituto di storia del risorgimento comitato di foggia e questa sera abbiamo un incontro particolare mi piace sottolinearlo perché una pagina di storia relativamente poco conosciuta parliamo del rapporto che si sviluppa fra Italia e Cina a cavallo tra il 1800 e il 1900 un rapporto come ci spiegherà il nostro ospite altalenante movimentato che ha una pagina importante nella spedizione italiana in Cina nel 1900 ma di questo poi parlerà più approfonditamente il professor letterio a me tocca con piacere devo dire introdurre l'ospite però prima di fare questo permettetemi di ringraziare innanzitutto la libreria Kublai di Lucera che da tempo ormai ci ospita e ci ha aperto le sue porte libreria Kublai che come sempre molto attiva e molto propositiva sul territorio oltre a proporre le nostre lezioni a svolgere una serie di attività che le fanno onore in cui subito solo per fare un esempio subito dopo il nostro incontro alle 19.30 ci sarà uno spazio riservato alla giornata della memoria quindi chi può se potete rimanete rimanete sulla pagina facebook della libreria. Un altro ringraziamento va fatto all'archivio di stato di Foggia e nella nella persona soprattutto del direttore della direttrice la dottoressa Grazia Battista l'archivio di stato da sempre e come dire è il nostro referente sul territorio e da sempre svolgiamo una collaborazione oramai proficua nonostante anche il covid nonostante l'emergenza che stiamo vivendo. Detto questo vorrei rapidamente passare alla presentazione del nostro ospite il professor Letterio che è membro dell'istituto di storia del risorgimento è uno studioso che da tempo si occupa di ricerca storica quando dico ricerca storica dico anche la capacità di reperire e usare fonti e questo il professor Letterio ha saputo dimostrarlo da tempo in particolare con una serie di ricerche che spaziano vanno dalla dall'epidemia della spagnola in capitanata subito dopo la prima guerra mondiale alla storia di epidemia anche in provincia di Foggia come il caso di Troia il colera del 1837 a Foggia un'altra volta un bello studio sul colera del 1854 sempre a Foggia però poi si è occupato anche di storia religiosa e di soprattutto di storia delle tradizioni popolari chiaramente di carattere religioso e non sia a Foggia sia in provincia importante è per esempio anche il suo studio sulla popolazione a Sant'Agata di Puglia nel 1813 allo studio pioneristico per certi aspetti sull'assistenza all'infanzia durante il decennio francese e poi anche altri studi come il corteo del cavalluccio un'antica tradizione legata alla transumanza o la biografia di Vincenzo Nigri un medico docente meteorologo insomma è un sono interessi vasti che spaziano nel tempo e nell'oggetto di studio questo fa di del professor Raffaele Letterio un nostro ospite molto gradito oltre ripeto che è membro dell'istituto che eh questa sera ci propone questa pagina di storia dicevamo all'inizio poco esplorata una pagina di storia che è lunga nel tempo non va limitata soltanto a una spedizione una singola spedizione militare perché poi la presenza italiana in Cina continua e di questo ci parlerà il professor Letterio e io però eh introdurrei questa serata ehm così ripescando nella mia memoria due eh due elementi che in qualche modo ci riportano a questa esperienza il primo è un un processo eh avvenuto a Perugia nel tribunale di Perugia nel millenovecento eh due se ricordo male a carico di un tenente dell'esercito il tenente Vito Moduno eh nativo di Bitotto in Puglia che eh aveva preso parte in precedenza alla spedizione italiana in Cina e questo tenente fu accusato di uxoricidio quindi durante il processo venne fuori anche il suo comportamento in qualità di ufficiale durante la spedizione in Cina e questo eh sui sui giornali ebbe molta molta visibilità e l'Italia si divise in ancora una volta in innocentisti da una parte e colpevolisti dall'altra e quindi immaginiamo eh innocentisti erano quelli in qualche modo che volevano tutelare un po' di più anche l'onore dell'esercito mentre quegli altri erano in prima fila vediamo i socialisti quelli che accusavano quelli che condannavano una politica coloniale eh nel caso della Cina ma più in generale la politica coloniale italiana. L'altro elemento penso che forse magari eh ce lo ricordiamo in tanti è un film del millenovecentosessantatré 55 giorni a Pechino un film di eh di Nicholas Ray eh che appunto parla, racconta, narra le storie di del del della della rivolta dei boxer e dell'intervento delle forze internazionali. Ad onore della cronaca la prima testimonianza eh della spedizione italiana fu fatta da Emilio Salgali perché pubblicò un romanzo le stragi della Cina nel millenovecento uno praticamente un anno dopo l'arrivo degli italiani in Cina. E e niente io chiudo qui passo la parola a Raffaele un'ultima battuta sul sul titolo che eh può sembrare un po' strano ma quando gli italiani invasero la Cina in realtà ehm non è che gli italiani hanno invaso la Cina però eh nella propaganda dell'epoca l'idea di andare in Cina era qualcosa che veniva sbandierato come un atto di una di una grande potenza in qualche modo. Prove tecniche di colonialismo anche questo il sottotitolo potrebbe potrebbe trarre in inganno ma prove tecniche perché? Perché gli italiani vanno in Cina praticamente a ridosso della sconfitta di Adua quindi con la sconfitta di Adua l'espansione coloniale italiana ehm riceve un eh diciamo un si ferma non oramai le critiche sono troppo forti e l'esperienza in Cina è il primo timido tentativo di riavviare una politica coloniale che poi eh verrà maturazione di lì a poco con la guerra di Libia. Ecco perché eh il sotto questo dovrebbe giustificare il il titolo e il sottotitolo. Detto questo passo la la parola a Raffaele. Buonasera Raffaele. Buonasera. Allora veniamo a noi questa l'argomento riguarda una colonia un argomento che è poco conosciuto in Italia. Noi tutti conosciamo le la politica coloniale in Africa ma nessuno penso che nella maggior parte dei casi sa che noi abbiamo tentato in Cina per più anni di avere una colonia fino a riuscire ad avere una specie di papocchio che non si chiamava bene dal punto di vista legale come era disciplinato ma ci siamo stati fino alla seconda guerra mondiale. È un argomento quindi interessante da riprendere proprio perché si colloca in una sfera tutta particolare all'interno di una realtà più ampia e quindi una piccola sfera poco conosciuta. Ora quello che noi teniamo presente è che il luogo che nella nostra colonia è aveva il nome di Tianjin chiamata Tianjin in un primo momento poi è diventato i giorni nostri Tianjin e ci siamo stati per 40 anni. Questa è una colonia o questa è una città che si trova in un posto strategicamente valido quindi alle vicinanze di un fiume che da Pechino sbocca nell'oceano e quindi era una collocazione quindi geografica e strategica come dicevo importantissima. L'Italia non aveva mai avuto rapporti veramente con la Cina. Tentò di farlo nel 1866 con un trattato commerciale. I rapporti erano modestissimi. Gli unici che operavano in Cina erano commercianti di bacchi da seta, di commercianti di tessuti. Per il resto non avevamo granché. Chi aveva invece delle buone strutture, delle buone intrature erano i missionari e in particolar modo i missionari del collegio di Napoli e a Napoli c'era un collegio per missionario importantissimo, molto importante, si chiama il collegio dei cinesi. Quindi loro erano ben inseriti, avevano una buona diffusione. Perché l'Italia rivolge la sua attenzione? Non solo per il tentativo di nuovi commerci ma perché era prossimo ad aprirsi il canale di Suez che poteva avvicinare tantissimo l'Europa e quindi l'Italia a quello che era il mercato cinese. Allora fu mandato, si cercò di mettere su un trattato commerciale e fu mandato una nave da guerra in magenta. Questa delle navi da guerra si esegueranno continuamente, saranno sempre quelle che saranno mandate per i contatti con le autorità. Quindi dicevo parte questa nave da guerra in magenta con il camitano Arminion. Arminion era un italiano che è nato al confine con l'Italia. In un primo momento era italiano, poi Annizia, poi divenne francese, poi riacquistò la cittadinanza italiana e quindi fu un validissimo ammiraglio, quindi anche esploratore, una persona interessantissima, tutta da conoscere. E quindi Arminion ebbe l'incarico di stipulare un trattato politico commerciale tra i due paesi. Che cosa succede? Tutto sembrava semplice nella sua. Il trattato fu firmato il 4 novembre 1866 che all'Italia venivano assicurati gli stessi diritti che avevano le altre nazioni europee. La sede del Consolato fu fissata a Shanghai. Qui entriamo nella fase della diplomazia, dell'accordo che va ufficializzato e dove la diplomazia italiana va incontro ai primi insuccessi. Purtroppo la diplomazia italiana andrà incontro per tutto il periodo anche nelle fasi successive a degli errori gravissimi che pregiudicano e pregiudicheranno quindi i rapporti in essere. Che cosa succede? Quali sono stati gli errori fatti da questa ambasciata italiana del nostro Arminion? Egli quando partì non aveva interpreti, cercò di contattare le autorità cinesi, ma non aveva interpreti con cui comunicare. Un errore gravissimo questo. E si servì dell'aiuto di funzionari di altre ambasciate. Poi raggiunse Pechino direttamente alla Corte senza aver accreditato la sua persona e questo fu malvisto dalle autorità cinesi. Ma il colmo si raggiunse che dopo i primi accordi alla chiusura del trattato si presentò il plenipotenziario italiano Salier de la Tour, il quale si accorse nel momento in cui doveva entrare a contatto con le autorità, si accorse che il trattato, la copia era in italiano ma non aveva la copia in cinese. Meno male che intervennero le altre ambasciate, in particolar modo quella francese, che risolse il problema. Certamente non fu un contatto ben visto dalle autorità cinesi. Nel 1878 avemmo il nostro rappresentante Ferdinando De Luca. Però un trattato non portava necessariamente alla diffusione del commercio. Questo non ebbe assolutamente nessuno sviluppo. Rimase tutto circoscritto a pochi per motivi strutturali. La mancanza di una linea di navigazione per l'estremo rente. L'inedeguatezza di una rappresentanza diplomatica che non esisteva. Ma soprattutto era l'ignoranza degli usi e costumi locali. L'ignoranza del mercato con i suoi usi. Quindi naturalmente per alcuni decenni il progetto Cina non decollò. Dobbiamo quindi aspettare al 1894-1895, quindi al 1894, al termine della guerra tra la Cina e il Giappone. Veramente dovremmo dire la guerra tra il Giappone e la Cina perché sta povera Cina che pigliava botte dal Giappone continuamente. E quindi in quell'occasione, al termine di questa guerra, l'impero King si vide limitata nei suoi territori. Fu costretta a fare una serie di cessioni. A chi? Alle nazioni europee, Francia, Gran Bretagna, Russia. L'Italia si fece avanti sperando di poter entrare in questa divisione dei territori, questa politica della colonia. L'Italia aveva bisogno di avere successo nelle colonie per poter avere una stabilità interna nella nazione. L'attività esterna serviva per rinforzare l'attività politica all'interno della nazione. Quindi l'Italia si fece avanti per chiedere qualcosa. Il ministero degli esteri era diviso in due correnti per quanto riguarda l'aspetto delle colonie. Abbiamo il ministro Emilio Visconti Venosta che era assolutamente contrario ad avventure territoriali. Ma c'era l'ammiraglio Canevari, sembra all'interno della struttura del ministero degli esteri. Canevari invece premeva per una espansione territoriale, quindi per le colonie. All'inizio del 1898 Visconti Venosta incaricò il nostro incaricato d'affari a Pechino, Salvago Raggi, che conosceva bene la realtà cinese. Fu chiesto un parere come comportarsi. Conveniva entrare nel gruppo delle nazioni europee. Era il caso di entrare e impossessarsi di una colonia. Ma Raggi, che conosceva la realtà cinese ma conosceva anche la realtà italiana, sconsigliò assolutamente. Che cosa propose? di seguire più fasi. Una fase era quella della conoscenza della cultura cinese e poi investire in un'attività commerciale. Solo così preparando questo tipo di terreno avremmo potuto prendere in considerazione una colonia. E allora il governo mandò una nave da guerra alla Marco Polo con una rappresentanza industriale per individuare una eventuale area che poteva essere utile, potesse favorire l'attività commerciale. Dopo un attento esame del territorio, parliamo sempre della zona nord-est, quindi a sud-est di Pechino. Fu individuato che cosa? Questa zona dello Zeja e precisamente la Baia di San Moon. Io spero che si pronunci così. San Moon. Questa era quella che si prestava alle migliori condizioni. Però che succede? Nel 1898 cade il governo Rudinetti e viene sostituito da Pellù. Pellù nominò l'ammiraglio Canevari al ministro degli esteri. Sappiamo che l'abbiamo lasciato poco fa con Evaro che era tutto teso a entrare nei vari territori, a creare nuove colonie e quindi praticamente viene dato al governo, viene dato un certo indirizzo. Bene, De Martino, che era ambasciatore a Tokyo, fu posto a capo di una legazione italiana in Cina. Le trattative con il governo cinese si ebbero per un lungo periodo per una serie di problemi legati non tanto alla corte cinese ma alle nostre incertezze nella individuare le località più opportune da chiedere poi al governo cinese. E finalmente fu individuata quest'area, dicevo, prima dello stesso. Però bisognava chiedere anche alle altre potenze europee. Il discorso era quello. Noi eravamo gli ultimi arrivati e bisognava quindi conciliare con le potenze europee, in particolare con l'Inghilterra, la grande potenza mondiale. E quindi contattammo la Gran Bretagna, la quale sulla zona scelta confinava con questa zona l'Inghilterra e aveva grossi interessi commerciali. non era molto propensa a far entrare nell'area dello Zejan. Però fu possibilista fin quando non trovarono un'area dove l'Inghilterra era lontana e nello stesso tempo non aveva influenze. Perché l'Inghilterra non era solamente il fatto dei suoi territori ma anche dei territori non suoi ma soggetti all'influenza inglese. Quindi l'Inghilterra si può dire che aveva delle capacità di rifiuto proprio per questo suo colonialismo. Però dopo tante storie si riuscì a trovare un accordo con l'Inghilterra, guardate bene con l'Inghilterra, non con la Cine, con l'Inghilterra. E quindi l'area fu scelta. Si raggiunge un accordo, eccetera, eccetera, eccetera. Il 28 febbraio 1899 De Martino presentò la richiesta in forma orale al ministro degli esteri cinesi. Però a questo punto qualcosa non andò per il verso giusto. Perché la richiesta non era proprio quella stabilita con l'Inghilterra, ma si allargava a zone non inglese, ma dove l'Inghilterra pretendeva di avere una sua influenza commerciale. Perché poi si riduce lì commerciale. L'Italia quindi si interessò di tutta l'area dell'Osségea, non di una parte, ma tutta l'area dell'Osségea, in fondo non era sotto la dominazione inglese. Quindi l'Italia cercò un po' di fare la furba, quindi insomma riuscì a spingere a contraddire un burco l'Inghilterra. E la proposta non fu accettata. De Martino chiese l'autorizzazione a fare intervenire la forza con le due navi da guerra che si trovavano in Cino, la Marco Polo e l'Elba. Quindi forzare la mano in questo modo. Ma adesso andiamo incontro a due grossi pasticci, pasticci diplomatici. È una cosa che è proprio veramente dilettante allo sbaraglio. Che cosa succede? Il primo pasticcio. Canevaro, il nostro ministro degli esteri, si rivolse alla diplomazia inglese ancora una volta sperando di convincere e sperando che la diplomazia inglese mettesse la buona parola con il governo cinese. In effetti il rappresentante in Cina parlò con la corte, con il governo cinese, il quale era in linea di massima, era possibilista, anche se bisognava avere pazienza e aspettare. Perché la faccenda aveva bisogno dei suoi tempi. Quale fu il pasticcio? Il pasticcio fu questo. Che mentre il ministro italiano a Roma trasmetteva all'ambasciatore inglese una proposta, l'ambasciatore a Londra, De Renzis, proponeva al presidente del Consiglio, Salisbury, un'altra proposta. Mentre il primo parlava di aree interne e quindi aree sempre dello Seja, eccetera, il nostro ambasciatore in Inghilterra, forse non aveva tutti i torti perché sto facendo che cambiava ogni giorno qual era l'area da scegliere, insomma, una con me, il nostro povero ambasciatore a Londra fa una richiesta al governo inglese che riguardava le isole della Baia e non l'entroterra. A questo punto fu un pasticcio che in effetti mise in grave imbarazzo tutta la diplomazia nostra e loro. Ma il secondo pasticcio quale fu? Siamo l'8 marzo 1899. Il ministro Cannevaro aveva ricevuto telegramme anche dall'ammiraglio in coronata. Che cosa fece? Telegrafò, ecco l'errore del primo, il discorso qual è? I due telegrammi. Ci fu, mentre c'erano difficoltà in Cina ad avere l'autorizzazione che non arrivava, che non arrivava, e quindi in Cina erano intenzionati a intervenire militarmente. Era l'Inghilterra che teneva fede. Nello stesso tempo, l'ambasciata a Roma contattò il nostro ministero degli esteri per tentare di calmare le acque. Perché? Perché c'era questo pericolo dell'ultimatum. Raffaele, scusami, ti riferisci all'ambasciata britannica? L'ambasciata britannica, sì. Grazie. Quindi c'era questo pericolo. Sì, l'ambasciata britannica aveva fatto un lavoro di intermediazione, ma dato che i tempi erano un po' lunghi perché c'era necessità di convincere, e in questo l'Inghilterra ci diede una grossa mano, sia prima che dopo, però siccome premevano, le nostre navi premevano in Cina che non arrivava il consenso, da Roma partì l'ultimatum. L'ambasciatore cinese, quando seppe questo, si presentò al nostro ministero degli esteri bloccando tutto, perché c'era la possibilità, la Cina era possibilista in questo. Allora parte il secondo telegramma in Cina, per fermare l'ultimatum. Intanto le cose vanno male. E dopo la spiegazione che verrà data da De Martino è questa. Dici, il primo telegramma non è mai arrivato. O, per meglio dire, è arrivato dopo. È arrivato il primo telegramma che diceva di fermare l'ultimatum. Noi non ci abbiamo capito niente perché non era stato mandato nessun ultimatum. Quando è arrivato il secondo telegramma che doveva essere il primo, il guai era stato fatto perché l'ultimatum era stato già spedito all'ambasciata, al ministero cinese. Quindi se dovete intervenire e fermare l'Inghilterra per calmare le acque e quindi il pasticcio compromise qualsiasi attività diplomatica. Quindi tutto si fermò. Canevaro destituì De Martino dall'incarco di ambasciatore, lo richiamò a Roma e affidò l'ambasciata italiana, o la legazione per meglio dire, non si chiama ancora, ma la legazione italiana all'ambasciatore inglese MacDonald. Salvagoraggi, che si era dimostrato fino a quel momento la persona più competente, la più cauta, più equilibrata, fu inviato in Cina. E a questo punto le trattative ripresero con grande pazienza e naturalmente non furono più le stesse. si venne incontro a quelle che erano le vecchie richieste degli industriali italiani, cioè sfruttare delle miniere, sfruttare il carbone, poter costruire delle ferrovie. Senza più parlare di diritti sull'Ossetia, l'esiguità. Ecco, l'Italia quindi dovette parlare non più di interessi alti, ma esigui. Le richieste furono così esigue che addirittura provocarono le proteste di tutti gli altri paesi europei che avevano interessi in Cina, perché per loro l'Italia si stava perdendo prestigio e questo comportava anche per il resto degli altri paesi la perdita del prestigio. E fu messa, quindi l'Italia fu attaccata violentemente dalla diplomazia internazionale. Che cosa succedeva in Italia? L'opinione pubblica, il Parlamento. L'opinione pubblica, sentire questo pasticcio combinato dalla nostra diplomazia, intervenne violentemente, anche perché l'opinione pubblica che era divisa tra gli espansionisti e i non espansionisti, cioè tra quelli che volevano l'intervento a tutti i costi prima che gli altri paesi in Cina, eccetera, eccetera, e gli altri che invece con più equilibrio lo ritenevano del tutto inopportuno, sia perché i costi, le spese sarebbero stati necessariamente superiori ai vantaggi in una località poi così lontana. Noi abbiamo tra gli anti-espansionisti, abbiamo i socialisti, i radicali, i cattolici, i sinistri, e anche l'onorevole Rudini di destra. Il primo maggio del 99 ci fu in Parlamento un violentissimo dibattito che portò alle dimissioni del governo Perlun. 3 maggio 1899, ma l'incarico fu rinnovato di nuovo, di nuovo Perlun. fu in nuovo, però non abbiamo più Cannevaru al Ministero degli Esteri, ma abbiamo Visconti Venosta. Anche lo stesso ammiraglio incoronato viene destituito e sostituito dall'ammiraglio Grene. si cercò di studiare delle realtà alternative, delle realtà alternative. Sembra in Cina, quella era diventata una specie di fissazione, ma tutti ci stavano in Cina, l'Italia non poteva essere da meno, insomma, per carità, il prestigio dell'Italia. Alla fine, che cosa succede? Siamo alla fine dell'Ottocento, attenzione, abbiamo una rivolta importantissima, quella dei boxeri. Boxer era una setta che si chiamava i pugni di giustizia e armonia, conosciuta in Europa come i boxer, riferimento alle arti marziali e alle società segrete, che stavano alla base del movimento. La ribellione iniziò nel 98-1898 e si diffuse rapidamente in tutto il nord della Cina e un po' alla volta la protesta si diresse verso gli occidentali, sia diplomatici e sia non diplomatici. vediamo di sintetizzare con poche parole quali erano le motivazioni dei boxer, che in un certo modo andrebbero visti con una certa simpatia. Quali erano i motivi? Innanzitutto dei problemi economici, perché la tassazione per i provi cinesi andava aumentando di anno in anno proprio per attuare, per far fronte alle indennità di guerra imposta dalle potenze occidentali. La guerra tra il Giappone e la Cina. Il Giappone ogni tanto era una potenza di una violenza inaudita, però di Camente si sentiva in dovere di entrare in Cina e combinare disastri paurosi, paurosi, paurosi. Quindi la guerra tra la Cina e il Giappone. Problemi politici. La caduta del governo, l'arrivo della principessa Xixi, spero che si pronunci così, Xixi nel 1898. Ma se questi erano avvenimenti che riguardavano la struttura della nazione, quello che invece veniva avvertito sulla pelle dei cinesi era la diffusione della cultura occidentale in particolar modo quella della religione dei missionari. Questa era quella che epidermicamente faceva soffrire moltissimo i cinesi. E quindi la sovrana cercò di combattere questo movimento che metteva in pericolo la monarchia, però a un certo punto capì che non ne avrebbe ricavato molto, anzi rischiava parecchio, e riconobbe con un editto l'11 gennaio 1900, riconobbe il movimento, anzi si mise alla testa del movimento. e quindi partecipò a questo malcondendo verso gli stranieri. Il 17 maggio, sempre del 1900, furono attaccate delle missioni cristiane, parlo di cattolici e missioni di protestanti, con un massacro diretto soprattutto ai cinesi convertiti, soprattutto loro. Ma il tutto non si fermò qui, la violenza dilagò fino a raggiungere la stessa capitale. Gli attacchi agli occidentali si diffusero, ci furono saccheggi nelle case e nei negozi degli occidentali, fin quando il 20 giugno ci fu l'uccisione del diplomatico tedesco a Pechino, il barone von Ketteler. La stessa Tianjin, quindi, Pechino fu soggetto ad un assedio e la stessa Tianjin fu soggetto a questo assedio. Ma gli assedi parliamo di 55-60 giorni. Le legazioni, quindi, prima ci fu questo problema a Tianjin che fu in parte difeso, abbastanza difeso, si riuscì a contenere con mille sacrifici, difficoltà negli approvvigionamenti. Ma il problema grosso era a Pechino, alle legazioni, e chiaramente qui ci vorrebbe una parentesi molto ampia che non è certamente questo il momento di fare. Sta di fatto che a Pechino c'erano le legazioni delle varie nazioni, cioè le ambasciate, diciamo, e quindi ci fu un attacco violento e quindi fu letteralmente Pechino isolata da tutti gli altri paesi. All'interno della città le stesse legazioni furono costrette a spostarsi da un edificio all'altro fino a riunirsi in posti ristretti con carenze di acqua, carenze di cibo, con le armi che si potevano utilizzare. riuscirono anche qui per un paio di mesi a resistere. A quel punto la situazione andava risolta, i paesi occidentali non potevano permettere una situazione del genere, non solo perché metteva in pericolo la vita dei propri cittadini, ma perché poteva a quel punto anche il prestigio delle nazioni occidentali poteva venire meno e questo poteva significare una reazione a catena nei vari strati della Cina contro le potenze occidentali. Poteva arrivarsi a questo. Allora si decise di unirsi e quindi fu costituita questa grande armata inglesi, giapponesi, statunitensi, russi, francesi, tedeschi e italiani. Alla guida del tedesco, del maresciale tedesco, Valversi, formarono un gruppo di 17.700 uomini. E quindi la sera del 13, dopo nove giorni di marcia, 13 agosto, quindi sono passati già un paio di mesi quindi la situazione, un totale diceva la sera del 13 agosto, dopo nove giorni di marcia forzata, giunsero a Pechino. Il 14 ci fu questa battaglia finale, la sera stessa le truppe entrarono a Pechino. Il 15, l'imperatrice e la corte fuggirono, lasciarono Pechino. Dall'Italia furono inviati 83 ufficiali e 1882 uomini di truppa capitanati dal colonnello Vincenzo Garioni. Questi arrivarono un po' alla fine della battaglia perché partivano da Napoli il 19 luglio del 1900 e giunsero il 29 agosto in Cina a una cinquantina di chilometri da Tianxi e di lì poi dovessero trasfarsi da Tianxi. ora dicevo quindi che una volta vabbè qui possiamo anche parlare questo del sì forse accenniamo a questo non volevo i nostri e nostre truppe alla partenza insomma partirono un po' così in modo arrangiato non per loro colpa per carità perché fu anticipata improvvisamente la partenza e quindi dovettero liberarsi di parecchio materiale quando giunsero lì si trovarono di fronte ad alcune difficoltà ripeto un po' per la certa per un un po' per l'Italia che a quell'epoca poteva avere e forse non solo a quell'epoca poteva avere le sue difficoltà a mettere su un'armata ma anche la fretta di poterlo fare quindi quando arrivarono non avevano i mezzi adatti per poter sbarcare manganza di materiali cartografici manganza di interpreti il diffondesi tra le nostre truppe per la differenza di clima di alimentazione del tifo malari infezioni intestinali poi il problema della disciplina sembra strano e sì perché la maggior parte di queste erano formate da militari che avevano precedenti penali o provenivano da compagnie di disciplina ad ogni modo si messero in fila anche loro e raggiunsero prima Tienzini e poi raggiunsero la capitale ora il 28 agosto ecco il 28 agosto ci fu un fatto un episodio simbolico di grande grande importanza per il popolo cinese cioè i militari entrarono nella città proibita e questo lasciò una tale amarezza nel popolo cinese e probabilmente aumentò anche il tipo di odio quindi sa avere avere questi comportamenti che sanno di disprezzo per quella che è la cultura e la civiltà di un popolo quindi non è tanto le armi forse che può quando il gesto di entrare nella città proibita in tutti i modi le vicende belliche in un modo o in altro durarono fino a dicembre che cosa il protocollo finale perché poi a quel punto bisognava sedersi siamo nell'agosto siamo nel 1901 un anno dopo bisognava sedersi al tavolo delle trattative per la divisione tra i vari paesi che avevano partecipato alla divisione delle spoglie il protocollo fu firmato il 7 settembre 1901 tra chi ascoltate Germania Austria-Ungheria Belgio Spagna Stati Uniti Francia Gran Bretagna Italia con i marchesi Salvagoraggi Giappone Paesi Bassi Russia e Cina tutti questi a dare intorno a tavola a incontrare la Cina immaginatevi quindi tutti speravano di portare un pezzo di Cina a casa quale fu la richiesta italiana la richiesta italiana furono tre praticamente l'internità di guerra di 77 milioni di lire lo sfruttamento delle di alcune saline del bacino carbonifero e la concessione territoriale di un quartiere all'interno della città di Tienxin città di circa un milione di abitanti ecco perché ci troviamo poi ad entrare in questa colonia questa colonia dove si sistemò il nostro contingente era di 44 ettari quindi piuttosto piccolini però era strategicamente importante si collocava tra il porto l'ingresso del fiume che porta a Pechino e la ferrovia era tra i migliori per quanto strategicamente ma di spazio ce n'era poco perché gli altri avevano si erano impossessate di altre parti noi addirittura confinavamo con il tra il porto la ferrovia e la Russia e la 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 non avevamo possibilità di allargarci gli altri furbamente presero territori che avevano confini libri e si allargavano mentre tutti gli altri quindi si ritrovarono ad avere una concessione uso questo termine ma è sbagliato una concessione che andò ad allargarsi nel corso degli anni noi non fu possibile perché avevamo al confine la Cina e la ferrovia ad ogni modo ci stava bene per carità avevamo anche noi la nostra brava colonia lontana dall'Italia e in Cina e questo sai dopo tutte le delusioni avute e da aversi era già qualcosa era la penultima l'ultima era quella come grandezza era quella belga la penultima era nostra fu un affare questo è il problema che si è chiesto per tanto tempo fu un affare io voglio reggervi io spero che no di non annoiarvi un pezzetto che ho trovato del nostro incaricato d'affari a Pechino Camillo Romano due riga per dare l'idea però io invito se si nota in me una lunghezza un eccessiva di fermarmi e di tagliare poi ne approfitto scusami volevo dire ne approfitto per ricordare ci sta ascoltando che alla fine chiaramente ci sarà anche uno spazio per interventi o eventuali domande scusami Raffaele allora quali sono questa l'ambasciatore quindi scrisse dice ma manifestò tutte le sue perplessità e diceva quando veggo che il settlement è in sostanza in un villaggio cinese con una banchina a cui per dare valore bisogna distruggere quello che già per un determinato proposito con un cimitero e con un grande stagno era una palude quando sul cimiterio veggo 9.111 bar e mi si assicura che vi sono di sotto parecchi strati di bar che non sarebbe il caso diceva lui di tirare fuori perché ci sono veicoli ci sono delle epidemie ci sono in giro per la Cina ci sono dei focolai di epidemie di peste e nemmeno più il caso di pensare a rimuovere quella poltiglia cadaverosa che saldi sotto delle bari di superficie quando penso a quello che costerà l'espropriazione di 900 case e sì perché e lo sfratto di 2250 famiglie oppure tenerle provvedere di un'amministrazione civile di giustizia in materia penale quando penso che neanche il supremo nostro criterio di tassare offranza è proficuamente applicabile a una popolazione così povera la mia opinione è che abbiamo fatto un infelice acquisto allora dicevo l'accordo fu siglato il 7 giugno 1902 fu data fu occupata dal nostro esercio fu data piena giurisdizione la proprietà di tutti i beni i cinesi naturalmente avevano il diritto a mantenere la residenza e il diritto alla proprietà il governo italiano decise in un momento di gestire la concessione ed ecco qui il primo come entrare in una realtà così drammatica come vi ho letto poco fa con mezzi a dir poco ristretti si pensò ad un escamotage cioè amministriamo indirettamente diamola a una compagnia commerciale ci fa tutti i lavori prende i guadagni per coprire i costi che affronta e così noi possiamo indirettamente governare è una politica che fu fatta anche in Africa che fu fallita ma fallì questa fallì perché quale motivo qual era la natura giuridica di questa benedetta colonia il trattato italo-cinese del 1902 era molto vago si dava in perpetuo all'Italia dietro il pagamento di un canone di anno di 2800 lire ore non aveva una sovranità non attribuiva una vera e propria sovranità è vero che negli anni successivi un pezzetto al giorno Italia entrò e si impossessò diciamo in un certo modo anche della giustizia ora che cos'era sta bene era un settlement che sarebbe una forma di concessione ma non è una concessione è una concessione che ha un suo una sua struttura giuridica una colonia una colonia non lo era senza dubbio anche se anche se negli anni 30 in alcuni processi i giudici indicavano la la natura giuridica di questa concessione di come colonia ma non era vero non era una colonia è vero che era partito come in un certo modo poi man mano l'Italia era andata così ma la sovranità rimaneva sempre alla Cina i cinesi residenti furono un'utile mano d'opera per i lavori di riqualificazione fu anche la principale fonte per quanto riguarda la tassazione la sicurezza era garantita da un corpo di garabinieri da guardi cinesi il primo edificio che fu costruito fu una caserma la caserma Savoia però c'era il problema di mettere le mani a una ristrutturazione a una revisione non era il caso soldi non ce n'erano e per diversi anni tutto fu abbandonato quando si riprese la faccenda nel 1912 che la Cassa Depositi e Prestiti intervenne con un presto di 40.000 lire che permise una serie di interventi e qui bisogna dare atto a chi gestì questo lavoro che in due anni in due anni si riuscì a rimuore cimiteri a colmare le paludie a costruire le reti fognali e le principali strade e lì in questo alla fine del secondo anno si stabilirono un centinaio di europei di cui la metà italiani una cosa un miracolo una cosa che non vi dico e qui bisogna dare atto ad Antonio di San Giuliano che fu il principale sostenitore di questi lavori di questo ingresso della della nostra cassa depositi quindi in poco tempo i lavori proseguirono e ci fu l'ospedale la chiesa la caserma il municipio il municipio che fu arredato con delle vetrate di artisti rifiniture in maiolica in vede una cosa elegantissima e poi ci fu la caserma dei vici del fuoco e il mercato da quello che ho potuto vedere da quello che poi ho potuto sapere anche tramite altre fonti mentre tutti i quartieri delle varie nazionalità furono distrutti la volta che ritornarono alla Cina l'unico quartiere fu quello italiano e fu ed è meta del turismo cinese a visita al quartiere italiano questa è una parentesi allora poi ci fu l'area pubblica piazza regina margherita il monumento alla vittoria il giardino pubblico il circolo italiano con le sue biblioteche che era punto di incontro non solo di italiani ma anche di stranieri furono costruiti alcuni villini secondo una certa architettura italiana e si cercò qui in qualche modo di creare una piccola vetrina vetrina dello stile italiano che doveva essere la carta vincente di fronte alle altre alle altre nazioni oggi ripeto oggi è meta di numerosi turisti Tianjin come diceva erano ben nuove concessioni stranieri ognuno si era ricavato il suo pezzo in una città di un milione di abitanti ma in un modo o in altro siamo arrivati a 1917 a scoppio della prima guerra mondiale e qui la povera Cina chi la tirava da una parte e chi la tirava dall'altra la Cina fu spinta se non costretta dal Giappone dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna a prendere posizione a entrare contro l'impero contro la Germania la Austria la Germania la Cina veramente non aveva nessuna intenzione ma la spinsero con le buone cioè gli fecero generosi prestiti al governo di Pechino e con le cattive con le minacce fin quando la Cina entrò in guerra e l'unica cosa che poteva fare è quella di operare il luogo di sequestrare i beni dei tedeschi concessioni qualche nave da guerra e un altro regalo che fece all'Occidente è quello di mandare 200.000 culis non voglio aprire la parentesi che è lunga quella dei culis che sono gli schiavi che noi europei e italiani con grande gioia partecipavano prendevano in Cina e lì con le buone non buone con le cattive li esportavano in Sud America per come schiavi quindi noi abbiamo fatto gli schiavisti con i cinesi 200.000 culis furono spostati in Francia per riempire i posti vuoti dei combattenti dei cittadini in guerra culis che questa è una mia è una mia teoria che a proposito della spagnola ma è una mia una mia ipotesi perché in precedenza c'erano stati casi durissimi di peste polmonare in Cina una diffusione di epidemia niente di più facile che i culis 200.000 portati nella società francese abbiano contribuito o come autori non so è una mia impressione perché poi si diffuse la spagnola e non si riuscì mai a capire bene dove è venuta agli Stati Uniti eccetera ma questa potrebbe essere un'ipotesi chiudiamo la valenza ma finita la guerra la Cina si fu messa nelle condizioni di dover restituire tutto questo denaro che aveva avuto e furono dolori perché la Cina non era in condizione di restituire allora che successe che si fecero pagare quindi subentrarono in quella che era l'economia e quella che era la concessione dei terreni quindi ognuno cercò di impossessarsi l'Italia che aveva partecipato con il Giappone e gli Stati Uniti a questo tentativo visto che si trovava dalla parte delle di una dalla parte della Francia eccetera per quanto riguarda la guerra terrava tanto di poter entrare in quelli che erano i possedimenti degli astro ungarici ma se la presenza accoccia perché l'Inghilterra e Stati Uniti la misero da parte non le è concesso assolutamente niente invece loro riuscirono innanzitutto a limitare la sovranità cinese e poi molte istituzioni pubbliche passarono nella gestione nelle mani dell'Inghilterra del Giappone e degli Stati Uniti quindi furono estromessi nelle posti chiave della della struttura amministrativa della nazione e le stesse regioni occupate dei cinesi non furono dai giapponesi voglio dire le zone occupate dai giapponesi nel frattempo in Cina non furono restitute l'Italia sperava come dicevo ma non riuscì sperava di avere la concessione quindi di avere la concessione austro-ungarico ma assolutamente non fu questo proposito c'è da fare una parentesi molto importante nel 1918 nel 1918 ci fu l'insediamento del corpo degli irredenti ma chi erano questi irredenti gli irredenti erano quei milietari che facevano parte dell'impero austro-ungarico perivano c'è da Trento e da Trieste e che a un certo punto si erano ritrovati dall'altra parte e quindi fatti prigionieri quindi passati dall'altra parte erano diventati italiani fatti prigionieri dagli nemici dell'Italia diciamo praticamente furono portati in Russia perché erano considerati austro-ungarici quindi nemici poi si decise a un certo punto eccetera proprio alla fine della guerra visto che Trento e Trieste eccetera e fu riconosciuta allora la città dell'inanzi italiana e questo permise attraverso la Siberia di poter entrare in Cina e raggiungere Tien Cina e quindi giurarono giurarono fedeltà all'Italia questa è una parentesi che forse si conosce molto poco siamo agli anni 20 e 30 la Cina continuava la Cina premeva sulle varie nazioni per vedersi restituire i territori che in un modo o in un altro sono stati occupati e quindi spingeva in questa direzione la Cina e in questo non riusciva a vincere i privilegi giustamente non giustamente ma dal loro punto di vista a raggiungere ad avere risultati opportuni e la si tensione si crea una forte tensione in Cina che spinse l'Italia a mandare un grosso battaglione in a Tiesin per evitare eventuali interventi della Cina siamo nel 1924 quindi sbarcarono fu mandata questa nave una nave reale con 90 marinai che si unirono ad altri volontari nella concessione e formarono 150 persone pronti a difendersi dell'eventuale inserimento eventuale ingresso della Cina che minacciava la restituzione ora vediamo un po' scusatemi cerco anche di ridurre il tempo interessante quello che stai dicendo Raffaele ne approfitto di questa piccola pausa per ricordare anche come questi 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 italiani redenti ex prigionieri in Russia poi inviati a Zenzini non vengono mandati subito in Italia ma vengono riusati nel senso che riutilizzati perché poi l'Italia interviene nella guerra civile russa a favore dei contro rivoluzionari in due modi ci sarà un ciladino nel nord della Russia europea a Murmask di carabinieri ma ci sarà questi uomini che stavano in Cina a Zenzin vengono usati vengono rimandati in Siberia per controllare la transiberiana scusate la linea ferroviare eccetera quindi questi torneranno alla fine in Italia soltanto nel 1920 c'è uno che mi colpiva che gli ultimi gli ultimi italiani di ritorno dalla Cina tornano sbarcano a Trieste lo stesso giorno in cui D'Annunzio entra a fiume e quindi il loro rientro fu messo un po' come dire in sordina nel senso che ne parlarono i giornali ma l'attenzione era spostata in quel momento su fiume scusami ho approfittato di questa pausa anche ok Tiencini era collegato con l'Europa e con l'Italia attraverso la transiberiana e lì arrivavano le lettere la corrispondenza e tutto ora con il fascismo ci furono ulteriori interventi nell'edilizia nell'organizzazione fu un abbellimenti addirittura furono dedicate quindi un forum per le attività sportive spazi dedicati anche al gioco d'azzardo le scommesse il circolo era dotato di due grandi bar un piano un piano terreno e uno all'interno col giardino d'inverno vennero anche inaugurati alcuni casi no e locale di intrattenimento quindi divenne un luogo un luogo alla portata quindi di tanti cinesi ricchi cinesi o ricchi europei che frequentavano la nostra la nostra colonia chiamiamolo colonia e quindi noi abbiamo nel 1936 abbiamo come abitanti 7953 persone di cui appena 358 italiani gli italiani erano impiegati nell'industria nell'amministrazione pubblica nel culto cattolico la guarnigione militare era formata da 292 unità poi erano ricchi cinesi diplomatici internazionali che per tranquillità e per l'eleganza del luogo tendevano a inserirsi ad abitare o quando meno a raggiungere questo nostro questa nostra colonia ma arriviamo a 1937 drammatica drammatico anno il 1937 per la Cina che succede a nord della Cina ulteriore invasione cinese siamo alla fine di luglio nel 1937 Pechino viene conquistata Tianjin fu assediata e sottoposta ad incessanti bombardamenti ora Shanghai cadde l'otto novembre e questa fu una delle pagine più brutte della storia dell'uomo i giapponesi che entrarono a Shanghai si diedero alle violenze più sfrenate 300.000 uccisi persone ferite saccheggi e le donne purtroppo e vabbè quindi anche stupide non finire quindi una ferita profondissima che tutt'oggi la Cina non riesce a dimenticare i giapponesi quindi conquistarono buona parte del suolo cinese e lo divisero secondo una strategia vecchia strategia la divisero in quattro stati fantocci che succede succede che succede che l'Italia siamo nel 37 adirì al patto anticominter e quindi insieme alla Germania nazista si avvicinò al Giappone questo portò a la rottura delle ritotture diplomatica con la Cina e furono annullati tutti i patti i trattati questo naturalmente ci pose in una situazione di grande grande incertezza specialmente per la nostra per la nostra Tiengina la stessa Cina andò incontro a delle situazioni interne tra filo comunisti filo nazionalisti c'è anche Scec ma qui non entriamo in merito a quello che sarà a quello che fu fino a non molti anni fa le lotte interne in Cina il 10 giugno 40 iniziarono tempi durissimi per la nostra concessione per l'attacco della Germania all'unione sovietica siamo nel 41 la transiberiana diventò inagibile e quindi ogni contatto con la nostra madre e patria cessò era l'unico mezzo che usavamo nello stesso modo nello stesso momento ci fu l'avanzata nipponica continuando qui l'avanzata distruzione di porti concessioni insomma un disastro le stesse legazioni o concessioni furono direttamente e direttamente coinvolte in queste battaglie sul suolo cinese noi eravamo in un certo qual modo ancora conservavamo una certa tranquillità ma ancora per molto poco l'Italia sperava che restituendo perché il Giappone restituendo in questo punto il Giappone quello che volevo dire diventò il protettore della Cina ed era quella che si presentava come nemico delle popolazioni europee europee però l'Italia fino a un certo punto le cose a Tianjin andarono bene era tranquillo il Giappone premeva che noi lasciassimo guardate un po' che cose riuscì a fare il Giappone divenne a un certo punto il rappresentante ufficiale della Cina e il difensore della Cina e dei suoi diritti e quindi ci fu una pressione sulle potenze europee a che lasciassero i loro possedimenti perché era ora di lasciare sia le legazioni dove c'era una certa indipendenza si può dire ma anche quella delle concessioni quindi premeva era il Giappone che premeva in questo ora l'Italia consentì a un certo punto dopo tante pressioni abbandonò quindi questa sua la legazione questa indipendenza diciamo della della legazione dell'ambasciata in Cina ma cercò di non lasciare questo suo fiore all'occhiello e cercò di rimandare di rimandare ma fin quando ci fu il fascismo in un certo modo il Giappone andò cauto in questo in fondo erano alleati il problema si complicò si complicò quando l'otto di settembre ci fu l'armistizio tra di Badoglio e qui gli italiani si ritrovarono completamente isolati e nudi quelli che avevano goduto fino a quel momento immunità si trovarono in una situazione drammatica le nostre truppe guidate da Carlo dell'Acqua si rifugiarono nella caserma Carlotto che avevamo nella caserma nel forum e nel municipio tentando di organizzare una resistenza ma furono costretti a rendersi alle truppe giapponesi che conquistarono la nostra concessione noi oramai eravamo nemici del Giappone il 23 settembre si costituì in Italia la Repubblica Sociale e i giapponesi ci misero di fronte a questa condizione scegliere se passare con la Repubblica Sociale quindi collaboratori della Giappone oppure passare con il nemico avevamo in quel momento il console Ferruccio Stefonelli Ferruccio Stefonelli si sentiva responsabile di questi italiani e li coinvolse in un certo qual modo però convince la maggior parte a passare dalla parte della Repubblica Sociale e si salvarono quelli che non lo fecero fecero una brutta fine e intanto le pressioni del Giappone erano sempre più forti per quando riguarda il rilascio quindi l'abbandono della della e fino a questa data praticamente in quei giorni lasciarono la nostra la nostra la nostra la nostra la nostra colonia diciamo il nostro Settraman fu abbandonato una parte riuscirono a rientrare in Italia o quantomeno si allontanarono ma un'altra parte invece furono fatti prigionieri e morirono distenti nelle prigioni cinesi a Shagai io concludo questa storia è stata una carrellata che ha abbracciato un lungo periodo e probabilmente risente di alcuni frettolosi passaggi anche alcuni punti sono stati tagliati perché altrimenti saremmo andati incontro a un vero e proprio rigetto di chi deve ascoltare e di questo dobbiamo essere coscienti il periodo è molto lungo intenso e e da un'idea di quello che fu la colonia elegante colonia elegante fiori all'occello di fronte a tutti i paesi europei e non europei ma di fronte alla stessa Cina di oggi che non si è permessa di toccare e ha restaurato insieme ai restauratori italiani tutti questi monumenti io vi ringrazio per l'ascolto e spero di non di aver avuto la dovuta attenzione anche se i tempi sono un po' lunghi grazie grazie Raffaele veramente io a ringraziare voi sono io a ringraziare voi veramente ci hai offerto una pagina di storia eccezionale raccontata con dovizia sintetizzata anche con maestria grazie complimenti grazie veramente di cuore mi sento dopo questo incontro mi sento un po' più ricco ho scoperto tante cose che non sapevo che magari sapevo soltanto qualche passaggio invece hai avuto la grande capacità di ricostruire un quadro veramente complimenti grazie a conclusione volevo aggiungere due o tre riflessioni prima di passare la parola a chi ci sta ascoltando a chi ci sta vedendo la prima e mi riaggancio a quello che hai appena detto perché negli ultimi anni stanno fiorendo gli studi sull'architettura coloniale italiana e la cosa bella simpatica se vogliamo è che questi studi si concentrano su due realtà una è Asmara in Eritrea che ancora oggi ha un'architettura in parte italiana e l'altra appunto è la colonia Etianxin in Cina che come tu dicevi è stata ristrutturata paradossalmente sono un lascito nel mondo attuale di un passato insomma che ha avuto la sua importanza in qualche modo e poi volevo sottolineare anche un altro aspetto che a me ha sempre colpito tu parlavi della partenza anche dell'organizzazione del corpo di spedizione italiana eccetera io mi ricordo questo particolare che il corpo di spedizione partì dal porto di Napoli e a salutare le truppe c'era Re Umberto I Re Umberto I che però pochissimi giorni dopo da Napoli va direttamente a Monza e troverà la morte a Monza perché verrà ucciso da Gaetano Bresci e quindi immaginiamo anche il momento che si vive in Italia e quello in contemporanea in Cina e poi mi ricordo anche per fare un parallelismo il discorso che è rimasto celebre del Kaiser Guglielmo II alle truppe tedesche in partenza dal porto di Bremenhaven e cito a memoria però il discorso del Kaiser era più o meno questo andiamo in Cina per portare la civiltà fate non fate i prigionieri fate in modo che da qui a cento anni quando un cinese incontra un tedesco per la strada cambi strada era un discorso durissimo però questo in qualche modo forse mi piace usarlo in questa maniera sottolineando le differenze che si vivevano in quel momento in Germania con il Kaiser e l'espansione militarista e coloniale eccetera e l'Italia manca un pezzettino di quello che tu hai detto scusami di quello che hai detto del Kaiser che Attila non faceva prigionieri e anche noi andando verso l'Oriente non dobbiamo fare prigionieri esattamente come discutiamo è vero però mi piaceva ricordare questo non tanto per le parole in sé quanto per sottolineare la crisi di fine secolo in Italia da un lato è la fortissima espansione economica coloniale e anche imperialista della Germania dall'altro lato ma era soltanto un elemento diciamo così uno spunto di riflessione chiudo e lascio la parola a eventuali interventi collegando la tua bellissima lezione di stasera alla nostra geografia alla nostra realtà ai nostri luoghi allora ricordo che a Termoli ancora adesso all'ingresso del centro storico dove c'è la torre c'è una lapide che ricorda un marinaio Pasquale De Gregorio un marinaio nato a Termoli originario di Termoli deceduto in seguito alle ferite in Cina durante la spedizione eccetera quindi mi colpiva questo monumento questo ricordo della città di Termoli a un suo figlio insomma con questo chiudo invito vedo che non ci sono per adesso interventi se c'è qualcuno che vuole che ha qualche domanda qualche dubbio o non so qualche riflessione altrimenti non so ok non vedo domande quindi io ringrazio nuovamente di cuore Raffaele è stata una tenata molto bella molto interessante ricordo anche che quello che abbiamo visto oggi verrà registrato e la registrazione la troviamo sulla pagina facebook della libreria Kublai ma anche sul canale youtube del comitato dell'istituto del comitato di Foggia dell'istituto di storia della resistenza di nuovo grazie Raffaele un saluto a tutti quanti grazie a voi buona sera a tutti grazie